ciao a tutti i ragazzi benvenuti in un nuovo video di stila oro oggi ovviamente siamo su forte con i miei cari due moderatori e un iscritto e niente ve li faccio presentare eccoli qua ragazzi oggi andiamo a fare un paio di partite insieme a loro un po di gameplay e parliamo anche qualche minutino di alcuni prossimi video che caricherò ovviamente iniziamo mettete tutti pronto e si va ok eccoci qua madonna e lo so eccoci qua ragazzi dove atterriamo laggo un pochettino aiuto colonne vai lo so laggo un po ci sono eh non laggo ma dopo quale schifo ma io però pure sto laggo male erano un po il gioco eh non so io ok guarda guarda come push on player comunque mi sa che ho fatto male mi prenda skin di eminem non vedo niente cc una ma non è il ranking no non è il ranking ho già sbagliato perchè volevo mettere costruzione ho messo 0 b dai vorrebbe avere un primo fight no dai è aggressivo proprio usciando tanto così moriamo subito è già so preso che c'è verto che l'ha chiesto avete scelto no sopra te c'è questo qua io lo sapete dove ho laggato ho laggicchiato eh quando sono sceso dal bus che è normalissimo le ho laggicchiato un po perchè lì c'è tipo l'impatto del perchè vi spiego da ps4 già è lento salito tutta la macchina già è lento di suo quindi appena entri se non ti becchi il caricamento completato rischi di creare rischi ma andiamo eh io tutti quanti tu sali in macchina e andiamo andiamo oh ciao marzuc ah c'è c'è vai marzo crappati andiamo vai andiamo subito a push io vediamo già che cioè sono messo bene oh oh si si mi ha tirato una lagg player botto ecco col primo fight dove siete non vedo niente non vedo niente io dopo torniamo alla lobby che cambia skin assolutamente dietro morto è reale ma dove volevo buildare sopra 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 non riesco a sparare attenti 74 140 qualcosa se ne scappa vabbè fa niente fa niente fa niente eccolo 26 marzo è morto dov'è eccolo no se n'è andato proprio va bello raggiungo io a presto la macchina a presto la macchina ha preso la macchina e non sto cercando di prendere serve una macchina non riesco vabbè fa niente lasciatelo chi serve shield green 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 tene 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 sì se c'è domani che tutta credo che ha poca vita no 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 non a meno a me a lui e lui e lui mi serve io ho fatto pure con 13 per di vita mi sto per fare tieni grazie vai sali marzo c'è uno salito che aggrappato ok non c'è l'ecco sulla tegra qua ma tu andiamo ero dei chi sta nato dietro ecco lo bot morto prendete una macchina che ci stanno la sento spari però non so dove la mia macchina lo so ma è veramente aiuto si era mossa la visuale da sola ho toccato il filo dei mosso per sbaglio si è mossa davanti alla visuale arred ma non c'è nessuno orco cane si che ci sta facendo no 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 andare la giuca vieni qua schifo tu da dove sbuchi sto due e niente come l'ho fatto eccoci qua ora ragazzi ci startiamo il secondo game dei tre e vediamo come va speriamo di non morire di nuovo andiamo mettete pronto si si eccoci qua eccoci qua nella pre lobby ragazzi non laggeremo quindi siamo entrati prima nella pre lobby non laggeremo io sono entrato prima di tutti perché gioco da xbox e ora ora laggerò pure il microfono ora si sentirà laggare perché non ho la prima città andiamo ragazzi marzone è aggressivo vuole pushare la prima città andiamo stavo dicendo se laggate durante l'ascesa del bus è normale ma che città è questa spiaggia spietata spiaggia spietata non ci sono mai andato lasciami il pompa mazzo si 14 26 regalo a chitarra super 70 non muore coglione muori regalo ma che è sta chitarra ah è un movement diciamo marzo sta sotto sotto regalo è un tizio da me non ho armi eh arrivo dove stai ah è sempre dall'altra parte beh non botto vai tu ma si può attaccare con te no no cioè se almeno non gli troppi sopra no boom regalo sta chitarra è fighissima cioè che boss attento a marzo ti do una mano basta che mi lasci qualcuno il nitro è mio cioè fra chi è che ha fatto sto botto no è il boss si sbocca oh 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 calmati guardate i miei guanti pigliatevi il medaglione a me è un pompa per favore a me se mi date colpi sono molto felice a me se mi date colpi sono molto felice grazie a tutti 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 dove eccolo e chi ancora in macchina dove eccolo eccolo qua qua dietro dietro aspetta vai dragon prendi quel posto lo pusciamo raga io piglio questa macchina vai 150 quello l'uomo si fa sta sotto raga non posso fare niente fatta se c'era dalla macchina mu faccio taglia andiamo no vedi raga io sono qua per favore pigliate aspetta dove sei io sono dietro di voi come un'altra macchina aspa allora vai spara dov'è eccolo che davvero chi l'aveva visto non stava qua sopra eccoli eccoli che cazzo ho fatto aiuto stella che stai a fare non vedi c'ho una guida perfetta eccolo non posso andare qua sopra più o meno aspettate che player dovrebbero stare verso di qua capito stanno sopra eccoli eccolo eccolo bravo bravo bravi marzone mi sa che ha fatto marzo dove stanno gli altri eccolo 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 davanti 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 è lì è verso di là no ragazzi in realtà è in macchina quindi qualcuno che scende lo spara perché è in macchina non so come facciamo ok no guarda la cece c'è ragazzi ci sta proprio salutando nella macchina se non ve ne rendete conto stavo proprio dicendo cuppule sami vai prendi e salmone si prende il salmone ma è ci sono più buono no frate ce ne stanno pochissimi in zero build non so perché zero build si spama di più vai marzo vieni l'ho fatto con l'acquisto morto dov'è bello vai 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 esplosa la macchina eccolo sta qua dentro sta qua sta qua sta qui ucciso bravo l'ho fatto volare via non so neanche dove sulla macchina non ci sono raga che fai bot qui e no è l'unica non so la posta ok quello lì è morto c'è un team di bot qua che non riesco a me una macchina che ha fatto una macchina aspetta morto uno aspetta morto un altro morto un altro eccolo morto marzo sali entra marzo con la macchina con la macchina con la macchina con la macchina aiuto eccolo è esploso 50 morto bravo dietro aspetta faccio esplodere pure con la macchina eccolo qua 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 altri qua altri qua altri eccolo lo so aspetta dove sei marzo è sta di là quindi andiamo verso di qua quanto capito eccoli ciao ragazzi come state spero bene no no sono coglione sono caduto giù sta qua uno aspettate eccolo ma chi è questo che skin demorgorgone 112 morto arrivo con la ma c'è sta uno sopra eccolo bravi cosa avevo detto sul fatto che la macchina è ingestibile e non ci posso fare niente tristo un poio sali drago ha crashato a marzo veloce e non ci posso fare niente aspetta devo dare aiuto a marzo si si andiamo andiamo ci muore no non ci muore non ci muore è arrivata è arrivata la squadra è arrivata la squadra muori lo sta sopra ammazzatela attenti alla macchina attenti alla macchina che fanno esplodere lo sta l'altro entro 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 vai vai fammi qui niente rega la macchina è andata ci sparano dall'isola cambia posto vai guida tu guido io no no guido io ho già preso il controllo dragon prende la mitra ah beh allora io aspettate metto così su una ruota marzone vieni rega aspetta serve benzina no no andiamo finita marzone marzo sali dentro la macchina possibilmente stavolta eh mo si è rifinta che quei 20 player erano dei player veri e non dei bot però non facciamo finta che erano dei pro mongra questi qua c'è proprio lì sta non sta proprio a 100 eccolo uno ragazzi c'è un team c'è un team 138 sparalo dietro è morto ok eccolo qua uno mo caldo e mo muore che hanno da caduto non è vero ah posto 36 lasciamo a farne più di 45 ah ma sta macchina dopo passi passi distruggia tutto però vuoi passare tu vuoi passare le scale non puoi perché sta macchina te la sfonda ah no sta scala non l'ha distrutto strano o sm questa cosa un smr distruggere tutto eccolo ma dopo sta qua regà questo è forte questo qua è forte sì datemi l'aiuto tu sta dietro 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 te che salto no eccolo sotto eccolo eccolo dentro la macchina questo qua della macchina vada andavano eccoli eccoli morto può essere una ecco e mi spari e lo dragon da te ucciso perché ne rimane uno vai salita la cavolo push però conviene a vittoria vado e con 43 43 chil'ora vai ma fare preparate ultimo game ragazzi dove cerriamo no vabbè andiamo a tana 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 vabbè credo che ce l'ha fatta aiutami mi sta laggando un po no no aiuto ho dato una laggata assurda eccolo la morto madora raga gli ho messato un colpo a questo 52 68 è morto uno qua morto uno fuori morto morto lo fa il l'uomo ha lo fa il morto l'uomo Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, aiutagli. Non so, c'è un player, aspetta. Ok, è morto, non credo che lo debutta... Eh... Player. Spara, 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 spara. Spara che tiene la macchina distrutta. Spè, vai. Dai, la macchina è rotta, la macchina è distrutta. Eccolo. Morto uno. Ci sono altri due però. No, altro. No, con la chitarra. È difficile. Raggiungi, raggiungi. Dov'è? Quando avessero tolto i buoni qua. Questa è il bot e ci sta a rompere. Ah, ma è il bot questo, muori. Eccolo, l'ho visto, Marzo. Verso... Morto? Bravo. Vuoi andare? Non mi dai uno. caught? No. Lo. La. come gente si c'è non so se tu hai visto layer green poi il bot di 2 bravo allora c'è un player costa macchina che o p non rega questa la macchina con una buona ora e buttano oggi io stare buttando stare buttano rebuttano sparo davanti per botto eccolo ecco stimo che io non resto tutto il tempo in macchina troppo ed è sempre più verde infatti io chiedo davanti anche sale adesso mi rubo la macchina eccolo eccoli eccoli eccolo ammazza morto portoro non ci sto capendo niente frate c'è questo qua con i guanti che si muove adesso e sinistra ecco lo sta qua dentro morto finalmente fai prenderlo bello sparo no marie che io non ci sto capì niente ma neanche io ho fatto ma niente o ecco che cosa è successo esattamente dove sta credo ora vogliono ti hanno da caduto appunto scusa non so che ho preso muore ma sta qualcuno dentro con la macchina ma non ci sta nessuno come dove sta mai non muore 47 gli ho fatto e non si è morto non si è morto muore eccolo un altro gr Peccato non mi sentire una canzone non La macchina di questo qua esplosa Sì Sì se l'hai rubata però Esplosa anche 150 morto Lo vado a finire Arrivo Sobotta Ti ero fottuti tutti Ti ero fottuti tutti Come Ah Piccolo crack del linto Maga GG ragazzi Seconda vittoria Ho gli ultimi due game Ci siamo giocati una bomba Sì veramente Ragazzi Vi ringrazio per aver visto questo video Noi ci becchiamo come sempre Cioè diciamo come sempre Cominciare a pubblicare un video ogni domenica Ci becchiamo ogni domenica Con un nuovo video Con un nuovo shorts Oppure con delle stream ogni giorno Ciao a you Ciao a you Grazie a tutti.